Sei stato male, Frede? Sì, sono stato male, però stavo facendo una stories, quindi no, sono stato benissimo. Hanno ordinato la sangria e non so perché, pensavo fosse il bimbrulé. Però è stato con questo caldo, pensavo fosse il bimbrulé la sangria, cioè... E non è che non lo so, però... Sono sicura che tutti voi sapete che questa è la sangria. Però la sangria non è pesante l'estate, raga. No, amore, si beve d'estate. E questo è il set per una foto insieme. Che poi vorrà anche più. Oggi ho scelto una barca delicata ed elegante. Ragazzi, venite con noi? Oggi il caro professore della Bocconi, che aveva detto che Chiara Ferragni era stata beccata a copiare e sospesa dall'Università Bocconi, ha dovuto mandare una smentita. Bravo, congratulazioni, sei proprio un babbo. C'è un po' la dimostrazione che la maggior parte delle cose che leggete su vari siti giornalistici o pseudotali, sul nostro conto più o meno l'80% sono tutte puttanate inventate da mitomani. Sì, mi sono svegliato moderato. Pensate quando non è moderato. Parazzi spagnoli, Chiara Ferragni e il suo ciurri se lo monta! Sì! Ah, come te lo monti! Sì! Ok, dai vai! Tre, due, una! Non ce la faccio! Non ce la faccio ragazzi, sto bene! Fine, fine! Fede, 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 fatte che vai! Però non c'è bene! Ok, ok, ok! Grazie a tutti.